Ben ritrovati a Motore Salute. Vi ricordo il nostro sito internet che è prevenzione e cura www.motoresalute.it. Dottor Soi, grazie per essere tornato. Alessandro Soi, chinesiologo. Sì, buonasera a tutti. Allora, a proposito di prevenzione e cura, è fondamentale lo sport. Lo diciamo, lo diciamo col cardiologo, lo diciamo con l'oncologo, lo diciamo con il gastroenterologo, tutti quanti. Diabetologo, insomma, non c'è nessuno che dica che non fa bene fare sport. Esatto. Ma qual è lo sport più adatto per ciascuna età e per ciascun sesso? Esatto, ok. Allora, la domanda è bella. È un po' ampia. Sì, è ampia, è bella, però da degli ottimi spunti di riflessione. Allora, partiamo dal presupposto che uno sport più indicato di altri è difficile da andare ad individuare. Quello che sicuramente si può ricostruire, e ricostruiamo adesso assieme, è una sorta di scaletta. Ossia, partendo dal bambino, e andiamo a crescere con l'età. Per un bambino, e per un adolescente anche, è importante cercare di acquisire un bagaglio di esperienze motorie il più ampio possibile. Questo vuol dire che dovremmo cercare di evitare la cosiddetta specializzazione precoce, ossia impostare subito uno sport che poi sia sempre e solo quello per tutto il tempo. Ad esempio, un bambino molto dotato a tennis dovrà però anche fare nuoto, dovrà anche fare dell'altro. Esattamente, esattamente quello che volevo dire, ossia cercare di fornire a un bambino e a un ragazzo quanti più stimoli possibili proprio per aumentare il bagaglio di competenze. Il che vuol dire imparare a correre, imparare a saltare, imparare a lanciare, imparare a rotolare. Sono tutti schemi che poi tornano utili. E quanto più capacità c'è di essere poliedrici, quanto più siamo poi efficaci nel movimento che andiamo poi a selezionare. Bambino, l'abbiamo visto. Bambini e bambine, maschi e femmine è la stessa cosa. Maschi e femmine è assolutamente la stessa cosa. A che età iniziamo a immaginare di fare qualche sport? Da piccoli l'acquaticità, da piccolissimi? Sì, 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 si può partire assolutamente da pochi mesi. Da pochi mesi, esatto, cercando ovviamente di non forzare le tappe, il che vuol dire non cerchiamo di mettere assolutamente in piedi subito i bambini, ma lasciamogli il loro tempo per gattonare, per rotolare e poi per mettersi in piedi in autonomia. Quindi cerchiamo di non stringere, di non accorciare troppo le tappe. Diamo a ognuno il suo spazio. E il suo tempo. Esatto. E questo vale per i bambini. Per gli adolescenti possiamo già iniziare ad inserire un discorso, chiamiamolo di specializzazione, ossia ho acquisito un buon bagaglio, posso pensare di iniziare a dedicarmi a uno sport specifico, può essere il calcio, può essere il tennis, il basket, quello che la persona preferisce. Però a Monte c'è stato, appunto, come dicevamo, una buona esperienza generale. Quindi ho acquisito tutto quello che mi serve, adesso posso decidere di prendere una strada. Questo intorno ai 15 anni? Sì, diciamo che 14 anni, 15 anni si può iniziare a pensare di impostare un discorso di questo tipo. Le discipline come il pugilato, il Kung Fu, il Tai Chi, piuttosto che altre discipline di questo tipo? Sono super indicate, ci permettono di spaziare molto rispetto a quello che è la potenzialità del nostro corpo. E anche della nostra mente, forse. È che è la cosa più importante, è assolutamente la cosa più importante. Quindi se si riesce, ovviamente, ognuno con le possibilità di tempo che ha, cercare di non fare solo una cosa, ma spaziare. Quindi uno sport di squadra, uno sport individuale, abbinare sempre le cose e la scelta vincente. Gli sport che, diciamo così, possono sembrare violenti, in realtà ci aiutano a sfogare la nostra violenza? Assolutamente sì, ci sono degli studi molto interessanti su sport da combattimento e gestione della rabbia. Proprio perché la possibilità di andare a sfogare la carica di stress contro un avversario che sia inerte, come nel caso di un sacco da box, piuttosto che di un compagno di allenamenti, si è visto che aiuta molto ad abbassare i livelli di stress e oltretutto è un ottimo allenamento sia a livello cardiovascolare che è proprio di forza fisica generale, che sono le due componenti più importanti e sono le principali. Sono sport completi? Sono sport abbastanza completi, soprattutto se riusciamo a poi non mantenere sempre l'atteggiamento posturale al quale ci portano. Ad esempio, ho la box molto chiuso, sono molto incassato, devo cercare di tenerlo solo nei momenti di box, poi nel resto della mia vita non chiudermi, ma rimanere bello dritto. Abbiamo visto adolescenti e adulti, quali sport sono adatti per le persone un po' più agere? Ok, arriviamo sul saliamo di livello. Per gli adulti, sport anche qui, il discorso è molto simile a quello fatto con gli adolescenti, perché più riusciamo a spaziare, meglio è, riusciamo a mantenere tante capacità in contemporanea che sono quelle che poi dobbiamo cercare in questa fase adolescenza e maturità di sviluppare il più possibile perché poi è tutta buona semina rispetto all'invecchiamento. Quindi quanto più riusciamo a essere efficaci nel seminare prima, tanti più benefici ci ritroviamo poi dopo. Quindi via libera a tutto quello che è corsa, tennis, allenamento in palestra. Bicicletta sì, se non diventa proprio l'unico focus, perché come abbiamo visto in una delle puntate precedenti stare troppo seduti non è l'ottimale e la bicicletta purtroppo ci fa stare seduti tanto. Quindi via liberissima dal punto di vista cardiovascolare, quindi salute del cuore, ossigenazione dei tessuti perfetta e invece dal punto di vista, chiamiamolo un po' più posturale, leggermente meno bene ma solo perché ci obbliga a stare seduti. Quindi via meglio la corsa? La corsa se fatta nella maniera corretta è sicuramente meglio rispetto alla bicicletta, più che altro perché noi siamo fatti per stare in piedi e non per stare seduti. Classifica degli sport? Il nuoto? Allora, il nuoto molto bene dal punto di vista di mobilità articolare e di allungamento dei tessuti. Un po' meno bene perché ci toglie la gravità. Quindi essendo noi animali, tra virgolette, soggetti alla gravità nella nostra vita quotidiana, allenarsi ad essere sempre senza gravità non è l'ottimale. C'è uno studio, poi carino, magari in una prossima puntata lo vediamo assieme, in cui è stato comparato la capacità di equilibrio tra tutti gli sportivi in generale e si è visto che i maestri di sub sono i peggiori in assoluto. Quindi hanno scarsissime capacità di equilibrio al di fuori dell'acqua ovviamente. Perché sono così abituati a stare in là, sono diventati quasi pesci. Esattamente, proprio per il tempo che passano in condizioni di assenza di gravità. Prima di passare all'età senile, qual è lo sport che lei considera migliore? Sport in assoluto? Non lo so. Per predilezione mia personale le arti marziali sono sicuramente molto complete e molto valide. In termini di salute generale, probabilmente un buon allenamento fatto in palestra è sicuramente meno divertente di altre cose, però è forse la cosa migliore. Molto completo? Eh sì, molto completo, ci permette di allenare il corpo rispetto a tutti gli angoli che può andare ad assumere, dal punto di vista della forza, della potenza, della capacità cardiovascolare. È l'allenamento più completo in assoluto, però è anche uno di quelli meno divertenti, quindi c'è sempre un po' e un po'. Facciamo un po' e un po' che è sempre la soluzione. Siamo all'età senile, dobbiamo continuare ad allenarci anche quando siamo meno giovani. Assolutamente sì. Anzi, se non abbiamo ancora iniziato, iniziamo. Assolutamente sì. Non fosse altro andiamo a ballare. Ecco, che è già un ottimo viatico mentre si invecchia, però assolutamente sì, anche le persone un po' più avanti con l'età, con gli anni, devono muoversi il più possibile, anche perché il fatto di muoversi ci permette di mantenere e preservare meglio il nostro cervello, perché si creano proprio delle connessioni a livello neuronale che ci permettono di invecchiare meno tramite il movimento. Quindi assolutamente sì, per gli anziani movimento a spada tratta. Fino a che età? Fino alla fine, mi direbbe da dire. Quindi anche a 90 anni? Assolutamente sì, noi abbiamo in studio pazienti e clienti molto, molto, molto anziani e si trovano assolutamente bene. Gli dà un buono sprint sia in termini proprio di salute fisica, sia appunto di scioltezza nel pensiero, nella parola. Quindi movimento indicato. E' abbastanza immediato comprendere come se riusciamo a muovere bene tutto il corpo, il sangue circoli meglio, conseguentemente il cervello risulti più ossigenato e quindi più fresco. Per cui se stiamo solo davanti alla tv a guardare motore salute non va bene, va bene guardarlo, ma può rialzarsi poi dalla poltrona. Esatto, assolutamente sì, quindi guardiamo motore salute, prendiamo spunto e andiamo a muoverci il più possibile. E andiamo a muoverci il più possibile. Quale sport consiglieremo per le persone anziane? E lì l'attività fisica coi pesi si è vista essere veramente, veramente, veramente buona. La migliore? Sì, probabilmente sì, perché sotto supervisione riduce al minimo i rischi e massimizza il risultato, quindi il mantenimento di certi parametri di forza e di velocità. Anche perché la muscolatura tende a scomparire col passare degli anni? Assolutamente sì, la prima cosa che perdiamo è la velocità e poi spesso gli anziani cadono, non tanto perché non hanno la forza, ma perché non sono abbastanza veloci per recuperare l'equilibrio. Quindi cerchiamo di mantenerla il più possibile. Quindi se siamo anziani che devono un po' correre, un po' darsi da fare, correre dietro ai nipotini, benissimo. Ottima, la cosa migliore da fare. Piccola pausa. Buonasera e benvenuti a Motore Salute TG. Questa sera parliamo di cani e gatti. Uno studio dimostra, infatti, che cani e gatti migliorano la salute mentale. La ricerca in questione è stata realizzata dalle università di Liverpool, Manchester e del Southampton. Dallo studio emerso come cani e gatti contribuiscano fortemente all'equilibrio mentale, sia nella vita di tutti i giorni che nelle relazioni sociali, nonché in ambito lavorativo. In particolare, gli esemplari domestici migliorerebbero autostima e convinzione personale, ridurrebbero ansie e preoccupazioni e migliorerebbero addirittura condizioni gravi come la depressione. Profilassi canina. Per valutare se il nostro amico a quattro zampe è stato attaccato da pulci o zecche, è sufficiente analizzarlo con attenzione. Prurito, scuotimento delle orecchie, crosticine diffuse sono tutti segnali inequivocabili. In farmacia, come nei negozi di animali, esistono molti prodotti in grado di colpire questi nemici in tutte le loro fasi esecutive, senza però creare problemi ai nostri animali. Esistono collari o piccole fiale da applicare tra le scapole dell'animale. La parola d'ordine è prevenire. Occorre iniziare i trattamenti antiparassitari in primavera e protrarli fino all'estate. Io ringrazio per l'attenzione e passo la linea allo studio. Grazie mille. Grazie mille.